ciao a tutti questo è un breve video dove volevo farvi vedere qual è il mio progetto ideato per voi avevo fatto un post sulla community che vi invito ad andare a leggere e vi volevo far vedere l'idea che mi è venuta appunto per voi questa è una prova fatta con la mia iniziale e con una frase diciamo che io sento proprio per me e queste sono delle stampe molto particolari che possono essere fatte personalizzate a vostra richiesta o con l'iniziale o con la data di nascita o con il segno zodiacale come volete voi e sono in diversi formati come potete vedere questa è in a4 questa in a3 e poi c'è anche la stampa che può essere fatta in a2 ed è la misura per fare un poster queste qui non sono delle semplici stampe c'è una stampa certo con i vostri simboli le vostre iniziali quello che più vi piace è una frase che verrà scelta dal mio mazzo la bellezza della vita sempre per voi questo mazzo qua oppure presa da uno dei miei libri sempre dedicata a voi scelta casualmente oppure anche scelta da voi se voi volete un qualcosa di personale e poi sono caricate energeticamente in base alle vostre richieste se sono richieste che riguardano il lavoro che riguardano la fortuna oppure che riguardano semplicemente una pulizia energetica per quanto riguarda la vostra persona ho ideato questo progetto appunto perché a voi rimanga un qualcosa che sia tangibile e che voi possiate vedere ogni giorno chi volesse una stampa del genere mandata in modo digitale nel senso io preparo la stampa in base alle vostre richieste e poi magari si può fare tramite whatsapp oppure tramite mail e verrà mandata a voi sempre questo vale come una sorta di consulto perciò chi fosse interessato a sapere il prezzo di una stampa del genere perché io la mando in modo digitale e poi voi la potete far stampare su un foglio normale la potete far stampare su tela la potete far stampare su stoffa la potete far stampare dove volete questo è la stampa è a carico vostro per sapere il prezzo di questa stampa perché dietro alla stampa appunto c'è un lavoro energetico che viene fatto questo è un piccolo dono diciamo la stampa è un lavoro che viene fatto appunto perché a voi rimanga un qualcosa di tangibile un qualcosa che voi possiate vedere del lavoro energetico che viene fatto dietro e chi volesse una stampa del genere o volesse semplicemente informazioni sul sul costo di una stampa perché ogni stampa in base alla alla grandezza ha un costo diverso perché appunto c'è una risoluzione diversa per questo c'è un un compenso giustamente perché dietro un lavoro del genere c'è il tempo c'è appunto la ricerca delle vostre richieste e c'è appunto la come dire lo studio anche della frase in base a quello che voi volete chi volesse sapere informazioni più approfondite su questo lavoro energetico può contattarmi agli al numero whatsapp o all'indirizzo di posta elettronica che vede giù e io darò tutte le informazioni del caso sono dei lavori vedete molto carini molto semplici però come ripeto dietro c'è un lavoro energetico che viene fatto su prenotazione mi raccomando su prenotazione niente con questo io vi saluto vi ringrazio dell'attenzione sempre che mi date in ogni mia diciamo idea che mi viene mi viene fuori ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo video dedicato a tutti coloro che sono nati il primo marzo del 1965 ringrazio sonia che mi ha scritto e mi ha dato l'opportunità di fare il video con questa data di nascita chiunque si ritrovi in questa data può ascoltare tranquillamente per chi ha questa data di nascita il colore della sua aura e il viola chi volesse più approfondimenti può chiedermi informazioni giù nei contatti che trova sotto ogni mio video li trovate anche il link del sito dove potete visionare ed acquistare i mazzi che io ho creato chiedermi informazioni per avere un consulto privato con me a livello di cartomanzia iniziamo subito con il vedere che cosa ci dice questa data di nascita vediamo il giorno che il primo marzo vediamo un po che cosa ci dice dei nati in questo giorno ok il primo marzo è il giorno della sensibilità artistica i nati il primo marzo hanno un talento naturale per varie forme di espressione artistica e sono molto sensibili all'ambiente circostante di solito sono grandi estimatori della bellezza nelle persone nella natura e nella vita di tutti i giorni ma chi pensa che siano troppo frivoli o con la testa fra le nuvole rimarrebbe sorpreso di scoprire quanto sappiano invece dimostrarsi pratici e concreti comunque anche se normalmente tendono a imporre un rigore e un ordine logico alla propria vita professionale nella sfera privata non hanno regole precise il fatto che in una normale situazione quotidiana decidano o meno di organizzare le cose per bene è solo una questione di scelta se vogliono sanno prendersela comoda arrivare tardi agli appuntamenti trascurare l'ambiente in cui abitano ma con altrettanta abilità riescono a essere scrupolosamente puntuali e a fare le cose con la massima precisione generalmente tale scelta dipende dall'importanza che essi attribuiscono a una determinata situazione non soltanto da un capriccio dallo stato d'animo del momento non si tratta quindi di mancanza di disciplina quanto piuttosto di un modo di fare spensierato e del rifiuto di prendere ordini di solito fanno molta attenzione alla propria immagine e all'aspetto di ciò che li circonda siano essi artisti o commercianti non saltano non soltanto per motivi estetici ma anche perché sono e sanno che è un elemento che può contribuire non poco ad assicurare il successo coloro che si occupano di affari oppure che operano in ambito politico sanno perfettamente come apparire accattivanti diplomatici quando è il momento di insistere e quando è meglio non strafare la sensibilità estetica di cui sono dotati si riflette nell'eleganza con la quale adempiono alle proprie mansioni in campo professionale in linea di massima sono convinti che il loro modo con cui si fanno le cose è importante almeno quanto ciò che si fa e per questo non riescono proprio a tollerare chi si dimostra sgarbato maleducato rude o scortese questi individui adorano la spensieratezza ridere e godersi la vita prendendola così come viene mentre non sono contenti quando si trovano a dover convivere con i problemi specialmente quelli personali nell'ambito lavorativo affrontano le difficoltà che si presentano a testa alta considerandole un'opportunità di evolversi e maturare nella sfera privata però quando le cose non vanno per il meglio vi sono ben poche persone che patiscono le stesse estruggenti sofferenze dei nati il primo marzo insimili frangenti piuttosto che tener duro e insistere in quella che appare come una battaglia già persa essi scelgono spesso di abbandonare la nave prima che affondi anche se non di rado servono dentro di sé le offese o l'inquietudine senza trovarvi soluzione in alcuni casi farebbero bene a cercare di affrontare i problemi che si presentano nei rapporti interpersonali provando a risolverli insieme all'altra persona invece di spazientirsi o respingere l'aiuto altrui quantunque siano tipi che amano esprimere i propri sentimenti a volte sono inclini a chiudersi in se stessi e a non ascoltare i suggerimenti del proprio cuore il segno zodiacale di appartenenza sono i pesci i pregi denati in questo giorno sono artista tecnico e ambizioso i difetti sono indeciso e in fuga dalla realtà vediamo adesso che cosa possiamo dire per quanto riguarda i pesci la nostra amica sonia mi ha scritto che è ascendente pesci perciò adesso andiamo a vedere che cosa ci dice questo bellissimo libro vediamo le caratteristiche generali del segno la natura mutevole indefinibile inafferrabile al di fuori di qualsiasi limite e schema in continua trasformazione in fuga dalla realtà è proprio di questo segno rapportabile per immagine all'acqua degli oceani infinitamente stesa indefinita sempre in movimento il segno è dominato dal pianeta nettuno dio del mare e degli abissi e quindi per analogia delle profondità degli abissi della mente dell'inconscio ciò accentua la particolare sensibilità e l'intuito paranormali dei nativi sempre tesi a captare ogni possibile minaccia esterna l'elemento acquatico dà loro un carattere di recettività e di passività che si manifesta anche in un'attitudine di adattamento agli altri e a situazioni sempre nuove il pianeta giove governatore del segno sviluppa l'espansione l'estroversione e anche il bisogno di protezione e di comodità l'esaltazione della luna psicologicamente accentua l'instabilità del carattere che risulta per lo più lunatico emotivo ricettivo ansioso irrazionale nelle sue manifestazioni e inclina a sentimentalismo al compiacimento delle sventure proprie e altrui vediamo adesso per quanto riguarda l'ascendente perché la nostra amica mi aveva detto anche l'ascendente allora vediamo un po' soli in pesci con ascendente pesci il pessimismo sarà la caratteristica preponderante di questa combinazione insieme alla tendenza di prevedere e spesso a pregustare sventure e sciagure proprie altrui se il sole si colloca in prima casa detto atteggiamento può essere sostenuto dall'invidia e dal desiderio di attirare l'attenzione poiché il soggetto debole non riesce a imporsi in altro modo se il sole è in dodicesima casa aumentano ulteriormente la lunaticità, l'ansia, la nevrosi, la fuga dalla realtà benissimo adesso andiamo a vedere qual è l'oracolo che andiamo a prendere con i nostri dadi vediamo che numero viene fuori per i nati il primo marzo del 1965 allora abbiamo 12, 15, 20, 28, 30, 36, 40, 44 l'oracolo numero 44 vediamo che cosa viene fuori con questo numero eccolo qua la pesantezza se hai estratto questo oracolo puoi notare ciò che ti è pesante e ciò che ti è leggero ciò che è pesante ti fa sentire come se avessi un macigno, un macigno, un dolore ciò che invece è leggero è una sensazione di felicità e gioiosità può distruggere la pesantezza, rimandarla indietro con consapevolezza se la leggerezza ora puoi riconoscerla o esserne l'effetto perciò cercate di eliminare questo senso di pesantezza che avete in questo periodo cari amici che state nati in questa data io ringrazio chiunque mi scriverà un commento facendomi sapere se si ritrova in questa descrizione ringrazio Sonia che mi ha dato l'opportunità di fare questo video i miei contatti li trovate sempre giù sotto ogni mio video con questo io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima